Ed eccoci al giovedì di questa quarta settimana. Iniziamo la nostra preghiera con i nostri sacchetti salvacentesimi. In chiesa è comparso anche il luogo dove pian piano possiamo cominciare a riportarli. Per i ragazzi sarà il venerdì santo il giorno di riconsegna di questi sacchetti. I sacchetti che mi richiamano sempre tante storie. C'è una signora anziana che mi ha detto di averlo riempito di tutte le monete e le monetine che aveva per casa. Tutti quei centesimi, quelle piccole anche somme ma che unite fanno la differenza, fanno davvero qualcosa di grande. Sono i segni di un'offerta semplice ma magari costante che continua durante l'anno. Come pure è bello ascoltare alcuni bambini che magari dalla mancia della nonna scelgono di dedicare una parte a questo sacchetto ai bambini e alle bambine di Betlemme, lo ricordiamo. Ecco, continuiamo questo aspetto caritativo della nostra quaresima e iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e se qualche bene ho compiuto accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberemi dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E questa sera il Vangelo ci porta dentro una contrapposizione, un contrasto tra due altre parole. Luce e tenebre. Sono parole care al Vangelo di Giovanni. La luce e le tenebre. Stasera ci dice anche magari con una certa difficoltà e il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Potremmo fare un esperimento, magari se lo fanno i bambini a casa è bene che lo facciano con i loro genitori, ma è quello di rendere una stanza buia completamente e poi di accendere una candela. E vedere che cosa fa la luce nelle tenebre. La luce rischiara e getta anche delle ombre, o meglio fa schiarire le cose che riesce ad illuminare gettando dietro di sé le ombre. Ecco, credo che questo piccolo esperimento che possiamo fare tutti ci dice che cosa è l'incontro con Gesù nella nostra vita. È quella luce che è capace di illuminare, è quella luce che rischiara il buio, è quella luce che fa verità nella nostra vita e che toglie le tenebre. Purtroppo, a notte l'Evangelista Giovanni, a volte a noi un po' piace stare nel buio, stare nelle tenebre, stare in quelle zone di penombra magari, che non sono proprio il buio, perché il buio capiamo tutti che è brutto, ma in quelle zone un po' lì dove si vede e non si vede. Lasciamo invece che la luce di Gesù, la luce che viene dalla sua croce, dalla sua morte e risurrezione, rischiare. La nostra vita le illumini davvero, per questo stasera preghiamo. Signore, spesso siamo come Nicodemo, veniamo a cercarti di notte, quando abbiamo paura e ci sentiamo smarriti. Rassicuraci con la tua tenerezza di Padre e ricordaci che, per ciascuno di noi, c'è una promessa di eternità. Amen. Voglio pregare per tutti i bambini della scuola materna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Anche questa sera facciamo le nostre e le vostre preghiere che continuate, mi raccomando, a mandare. Salutiamo i ragazzi della Cresima, seconda media, con i loro padrini, madrine, genitori. Appuntamento importante, quello della Cresima, per cui vogliamo pregare davvero per loro, perché incontrano Gesù come quella luce. E a tutti davvero l'augurio di una buona serata, con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica di ogni potente Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. In questi giorni continuiamo a raccogliere dalle vostre case alcune vostre preghiere. Potete mandare un video, mi raccomando registrato in orizzontale, in cui dite un'intenzione di preghiera come singoli o come famiglia, oppure potete scriverci il testo di una preghiera che i catechisti poi leggeranno. Dove? Al telefono dell'oratorio. Cosa aspetti? Mandaci la tua preghiera e buona Quaresima! Come la luce illumina ogni cosa La tua parola rivela a noi il tuo volto Come la pioggia scende nella terra La tua parola entra nel nostro cuore Glode a te, oh Cristo Verbo di salvezza Glode a te, oh Cristo Parola di Dio per voi La tua parola entra nel nostro cuore La tua parola entra nel nostro cuore La tua parola entra nel nostro cuore